Il nostro Comune ha perso una favorevolissima occasione, quella di poter attingere i finanziamenti relativamente all'edilizia scolastica. Sì, come sappiamo la presenza del Consiglio dei Ministri, il Governo italiano ha promosso un'attenzione particolare verso l'edilizia scolastica e per questo è stato pubblicato su un sito costituito ad hoc dalla presenza del Consiglio che si chiamava Sblocca Bilancio la possibilità concessa ai comuni di presentare delle domande, delle stanze di partecipazione a questo bando. Era un bando di 480 milioni di euro che concedeva ai comuni che ne avessero fatto richiesta la possibilità di avere degli spazi finanziari concessi e quindi tutte le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica non vengono considerate nel saldo delle competenze e quindi riescono dal vingolo di bilancio. Quindi tutti i comuni che hanno sostenuto queste spese o con l'avanzo di amministrazione o facendo ricorso all'indebitamento con il pareggio di bilancio che è stato previsto dalla legge di stabilità di quest'anno queste spese non vengono considerate appunto nel vingolo di bilancio. Bene, ho constatato ieri la conferenza Stato-Città ha approvato lo schema di decreto che sarà quando prima pubblicato dalla presenza del Consiglio dei Ministri ho riscontrato da canicattinese con rammarico perché quando uno ha la possibilità di verificare che il proprio comune compaia in questi elenchi ovviamente ne esprime al di là delle appartenenze politiche una grande soddisfazione. Purtroppo, mentre in provincia del Grigento tanti altri comuni ne hanno fatto richiesta mi riferisco per esempio alla stessa provincia regionale del Grigento ma anche al comune di Licata, di Favara, di Sciacca, di Cammarata la stessa Campobello di Licata per citarne alcuni il comune di Canicattì non ha presentato la relativa istanza era un'istanza che andava presentata anche online quindi compilando un formulario non richiedeva un'attenzione specifica eppure questa amministrazione comunale e devo dire anche i dirigenti che percepiscono anche i famosi premi di produzione non hanno avuto l'attenzione, la capacità di dedicarsi a questa opportunità mi pare che anche le scuole di Canicattì abbiano bisogno di interventi quanti sono gli appelli che provengono dai genitori, dai rappresentanti di istituto dai vari consigli di istituto per fare degli interventi migliorativi e bene, quindi i cittadini devono sapere che il comune di Canicattì l'amministrazione comunale non ha partecipato a questo bando mi chiedo ma quante opportunità in questi anni si sono perse mi auguro che la prossima amministrazione comunale con dirigenti all'altezza della situazione e degli amministratori anch'essi all'altezza della situazione sappiano cogliere questa opportunità per quello che mi riguarda io rinnovo sempre la mia disponibilità e il mio amore verso la nostra città grazie a tutti